Salve a tutti, eccomi Alfonso. Adesso che siamo in attesa per l'apertura, per iniziare a viaggiare per il Kenya, ragazzi questo è il momento giusto per iniziare a pensare per il vostro vacanza in Kenya. Il Kenya è un bellissimo paese che c'è veramente tante cose da vedere. La bellezza del Kenya sarebbe per il mare e per il safari. Questa è la cosa più fondamentale per il Kenya. Adesso che siamo tutti aspettando che aprano tutti i frontieri e lasciano i turisti dall'Italia per uscire fuori dall'Italia, questo è il momento giusto per iniziare a programmare e a capire che cosa andrete a fare quando arrivate in Kenya. In Kenya, ragazzi, ci sono varie escursioni, come ho detto prima, che potete fare di safari, potete fare anche varie escursioni. Potete chiedermi qualsiasi cosa, informazione, e poi anche se mi seguite su FB o su Instagram, qualsiasi parte che riuscite a vedere la mia pubblicazione di tutte le cose che faccio per i turisti che arrivano in Kenya. Ragazzi, vi assicuro che il vostro vacanza sarà sempre il migliore. Con la nostra agenzia Vera Africa organizziamo sempre il migliore escursione per i nostri clienti. Hakuna Matata. Sarai sempre mio amico, mio cliente. Hakuna Matata. Alfonso Safari Kenya.